Ben trovati cari telespettatori, Ben trovati cari telespettatori di Rossini TV da Edoardo Razzi per questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico notiziario televisivo del comune di Vallefoglia e di quelli limitrofi. Prima di incominciare però vi ricordo di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure alla email vallefoglia-rossinitv.it. E partiamo subito con una notizia di cronaca visto che è stato identificato un 34enne originario dell'Argentina residente a Rimini che qualche giorno fa ha rubato nella chiesa di Ostera Nuova un bottino di appena 100 euro. Per maggiori dettagli vediamo il servizio. Se non rubare è uno dei dieci comandamenti, non rispettarlo e farlo addirittura in una chiesa può rappresentare una delle forme massime di non avere dignità. Questo è quanto accaduto qui lunedì 17 gennaio verso ora di pranzo nella chiesa di San Giovanni Bosco di Ostera Nuova. All'interno della chiesa infatti è entrato un giovane ragazzo di 34 anni residente a Rimini ma originario dell'Argentina che è entrato prima e poi uscito dalla chiesa con un bottino di appena 100 euro. Un piccolo furto che ha però generato tanto rumore. La confusionare a ricerca di denaro da parte dell'uomo all'interno della chiesa ha attirato l'attenzione di Don Marcellino Rediu, sacerdote della parrocchia che abita in uno degli appartamenti dell'edificio. Fin dalla sua abitazione infatti ha potuto sentire il rumore dei mobili che venivano spostati portandolo poi a verificare quanto stesse accadendo. Una volta che si è ritrovato davanti al ragazzo il parroco gli ha chiesto cosa stesse facendo e alla sua domanda il giovane argentino gli ha risposto che stava semplicemente curiosando non facendo nulla di male. Uno strano atteggiamento da parte del giovane che è insospettito Don Marcellino che lo ha prima allontanato dalla chiesa dopodiché il giovane si è dileguato il parroco a quel punto ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri della stazione di Montecchio. La presenza delle telecamere hanno aiutato gli agenti a risalire ai movimenti e spostamenti dell'argentino avvenuti all'interno dell'edificio portandoli a scoprire poi in quali punti aveva agito. Il ragazzo infatti aveva rovistato in diversi mobili compreso quello in cappella che conteneva le offerte dei fedeli offerte che sono state rubate visto che il lucchetto che le custodiva era stato manomesso. Sempre dalle immagini di sorveglianza i carabinieri sono venuti a conoscenza dell'identità del sospettato nel giro di 24 ore riconoscendo dunque il volto del pregiudicato 34enne argentino e che ora dovrà difendersi in giudizio dall'accusa di furto aggravato. E questa settimana in ricorrenza del 27 gennaio si è svolta la giornata della memoria una ricorrenza alla quale la città di Montbaroccio è storicamente legata. Sentiamo ora le parole del sindaco Emanuele Petrucci. Una giornata molto sentita quella della memoria per il comune di Montbaroccio che ha visto riaccendersi alcune iniziative nel ricordo dell'olocausto. Il 27 gennaio è infatti stato oggetto della ripartenza del progetto «Luci nel buio per la Shoah» che coinvolgerà per il quarto anno tutte le scuole di ogni ordine e grado d'Italia per realizzare elaborati dedicati ai giusti di quel terribile momento. Una ricorrenza alla quale la città di Montbaroccio è storicamente legata dall'importanza del Beato Sante laddove in quegli anni di crudeltà furono salvate tantissime famiglie ebree e non. Il ricordo di chi subì in maniera così brutale non deve mai essere dimenticato e per il sindaco Emanuele Petrucci il coinvolgimento dei giovani è l'aspetto più importante. Coinvolgere i giovani su quello che è il fattore, il ricordo e soprattutto il giorno della memoria è per noi un elemento contraddistintivo. Bisogna che questa amministrazione faccia nei prossimi anni un'attività ancora più intensa rispetto a quanto la stessa stia facendo, anche se non ci siamo mai fermati nel merito per far sì che i nostri ragazzi possano preservare e raccogliere la testimonianza di quelli che sono i veri valori della vita, conoscendo anche appunto quelli che purtroppo sono anche le testimonianze di allora. Gli anni da quel tragico sterminio passano, il ricordo rimane, ma le testimonianze sono sempre meno. Abbiamo veramente pochissime testimonianze storiche purtroppo legate a quel periodo. Purtroppo stanno venendo a mancare tanti anziani, fra cui coloro che ci ricorderanno questi momenti. Abbiamo ad oggi ancora più il dovere di far sì che quella testimonianza e quelle situazioni non solo non vengono dimenticate, ma sicuramente dovranno minimamente essere ripetute. E dal 24 gennaio al 21 febbraio 2022 è possibile presentare la domanda al comune di Montelabate per tutte le famiglie in difficoltà economica per ricevere un contributo straordinario. Un sussidio promosso dall'amministrazione comunale per le spese sostenute nel 2021, a seguito del perdurare dell'emergenza sanitaria. Il contributo concesso è finalizzato alla copertura delle spese su bollette di luce, gas e acqua, e può beneficiarne chi è residente nel comune di Montelabate, chi è in possesso di un titolo di soggiorno valido per i cittadini stranieri, che ha un ISE in corso di validità pari o inferiore a 16.000 euro e chi non percepisce il reddito di cittadinanza superiore o uguale a 700 euro. Per maggiori dettagli è comunque possibile consultare la pagina social del comune di Montelabate. E sono giunti alla fase finale i lavori di costruzione della nuova sede delle comune di Vallefoglia. Sull'innovativa struttura che sorgerà in via Piola Torre, in un punto centrale della città di Montecchio, ne ha parlato il sindaco Palmiro Ucchielli. Sindaco Ucchielli ha le sue spalle il nuovo comune di Vallefoglia. A che punto siamo con la sua realizzazione e perché è stato scelto questo punto specifico della città di Vallefoglia? Perché questo è un punto centrale, nevralgico, dove sono 13.000 abitanti su 15.000 la città di Vallefoglia ed è il cuore di una città di oltre 50.000 abitanti insieme a tutti i comuni confinanti. E poi qui c'è la Casa della Salute dove i cittadini vengono per tutelare la loro salute. Qui a fianco c'è una palestra che è una palestra delle prime costruite da l'ex comune di Sant'Angelo. Qui ci sono le scuole, le scuole elementari, le scuole materne e qui è un centro commerciale dove ci sono 20-30 negozi di più importanti. Risparmieremo parecchie risorse perché è chiaro che avere tutti in un luogo stiamo pensando come valorizzare tutto il patrimonio di Sant'Angelo in Lizzo, da Colbordolo, Montecchio e di Morciola. Lasceremo degli uffici importanti soprattutto per le persone anziane diciamo nei centri collinari, le sedi degli ex comuni, ci stiamo ragionando. Qui, qui proprio dove siamo, sorgerà una bellissima piazza importante che sarà la piazza delle scuole, sarà la piazza del centro salute, degli impianti sportivi, dei centri commerciali e nasceranno oltre 100 posti macchina che è una delle cose importanti per le strutture scolastiche, per le esigenze dei cittadini che vengono in questo centro commerciale. Tutti questi lavori saranno ultimati prima dell'estate prossimo. Quanti uffici verranno realizzati all'interno di questa struttura? Sono gli uffici, diciamo, dell'anagrafe, del Stato civile, servizi sociali, servizi scolastici, servizi sportivi. Sono uffici, diciamo, che riguardano la Sala della Giunta, la Sala del Consiglio, gli uffici soprattutto anche per le persone più anziane, anche a piano terra, quelli più di maggiore importanza. Quindi diciamo che saranno degli uffici che ci consentiranno almeno di riparmiare anche nella gestione almeno 40-50 mila euro all'anno. E venerdì 21 gennaio è stata una ricorrenza storica per la città di Vallefoglia che ha celebrato il 78esimo anniversario dallo scoppio di Montecchio. Nel ricordo delle 33 persone che persero la vita quel giorno è stata celebrata una messa presso la Chiesa Santa Maria Assunta di Montecchio. Vediamo. Stasera siamo qui a Montecchio dove 77 anni fa è avvenuto un fatto acclatante, una polveriera che era proprio in questa zona qui, è stata fatta saltare, migliaia e migliaia di bombe sono scoppiate in un attimo, tant'è che l'abbaglio è arrivato da Pesaro a Urbino, si è visto il lampo di fuoco. Diciamo che erano quasi le nove di sera, per il 1944 era già notte buia, considerando che le luci non c'erano, la gente tutta campagna e via eccetera. La Chiesa non era qui, era in un'altra zona del paese, però qui è stato tutto spianato da questo terribile boato dove persero la vita 33 persone. e ancora oggi abbiamo parenti, amici, conoscenti, familiari di questa gente, forse anche dei figli piccoli di questi caduti che sono ancora vivi e dobbiamo mantenere alto il ricordo di questa bruttissima serata che poi ha lasciato oltre 33 morti, anche tantissimi invali, tantissimi mutilati, danni un po' a persone, cose, animali, via eccetera. Fu una tragedia per l'intera provincia, per questa vallata e Montecchio pagò un prezzo pesantissimo delle vicende della guerra. Poi non bisogna mai dimenticare che dopo quella vicenda ci fu, diciamo, una catastrofe della guerra proprio qui a fianco a Montecchio dove ci fu lo scoppio delle mine con il cimiterio degli inglesi, dei canadesi di tanti altri morti, passando nelle vicende della guerra al cimitero altrettanto importante di Gradara. Ecco, io penso che bisogna ricordare per trasmettere alle nuove generazioni che la guerra è distruzione, è devastazione, è lutto, è dolore, è miseria e poi l'impegno che fu veramente importante dei montecchiesi per ricostruire dopo quei morti che ci furono. Noi ricordiamo ogni anno e mandiamo un messaggio di pace. Da Gradara a Pechino. Sarà questo il viaggio di Alex Pagnini, 27enne gradarese che parteciperà alle prossime Olimpiadi Invernali in Cina facendo parte della squadra italiana di Boba IV. Alex, nato il 25 aprile 1994 e studente di Scienze Motorie all'Università di Urbino sarà dunque impegnato ai giochi olimpici di Pechino 2022 che prenderanno il via il prossimo 4 febbraio. Il giovane gradarese alla prima Olimpiade della sua vita farà parte del secondo team che lo vedrà gareggiare al fianco di Mircea, Obou e Variola. La gara che vedrà coinvolto Alex Pagnini si articolerà in quattro manche distribuite su due giorni, il 19 e il 20 febbraio. E concludiamo il nostro TG con altre notizie di sport partendo dalla pallavolo. La Megabox Vallefoglia è infatti uscita sconfitta dalla trasferta di Chieri con un passivo pesante di 3-7 a 0. La squadra allenata da coach Bonafede tornerà domenica a giocare in casa contro Bergamo dove ospiterà una sfida decisiva per la rincorsa alla salvezza. Ancora in attesa di scendere in campo invece il calcio dilettantistico che vedrà i campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria riprendere il prossimo 6 febbraio. E con lo sport si conclude questa nuova edizione delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.